Francesco Sarcina ad Amici, chi è, età, carriera, figli, chi è la fidanzata, foto e Instagram. Nuova domenica e nuova classica imperdibile puntata con Amici 22, il talent show di successo che vede alla conduzione. Ormai da sempre, Maria De Filippi. Tra gare di ballo e di canto, il serale per gli allievi della scuola più famosa di sempre si avvicina. E oggi per giudicare i cantanti arriveranno tre esperti, Francesco Sarcina, il maestro Beppe Vessicchio e Baby Kappa. Chi dei ragazzi si classificherà al primo posto e riuscirà ad accedere al serale? Francesco Sarcina è nato a Milano il 30 ottobre del 1976 ed è un noto cantautore e chitarrista. Frontman del gruppo musicale Pop Rock Le Vibrazioni. Nel 1999, infatti, ha dato vita al progetto Le Vibrazioni, Sarcina è autore di testi e musica della quasi totalità delle canzoni del gruppo. Le Vibrazioni sono un gruppo musicale Pop Rock che si è formato a Milano nel 1999. Il gruppo è composto dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, dal chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deida. Dopo anni di gavetta, il gruppo è esordito all'inizio del 2003 con il singolo dedicato a te. Dopo una breve pausa, il 30 giugno 2017 il gruppo ha annunciato il ritorno sulle scene musicali con la formazione originaria. Insieme, infatti, hanno partecipato al Festival di Sanremo 2020 con il brano dove si sono classificati quarti. Nel 2011 Francesco Sarcina ha continuato la sua attività come solista, per poi ritornare ad essere il frontman della band. Della sua vita privata sappiamo che è stato sposato con Clizia in Corvaia, ora felice al fianco di Paolo Ciavarra. E che i due hanno una figlia, Nina, nata nel 2015. Sarcina è padre anche di Tobia Sebastiano. Nato da una precedente relazione. Al momento Sarcina è fidanzato con Naira Garibo, madre della sua terza figlia. Francesco Sarcina è molto seguito su Instagram, con il suo account ufficiale, etfrasarcina, banta oltre 110.000 seguaci. Sunti plin de dude, tumere tante printre talea culte. Incerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima, deodată nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fie egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafie aparat.